Che molti bagni pubblici a Bassano fossero in condizioni pessime è tristemente risaputo. A segnalarcelo sono da anni i cittadini, i turisti di una città che dovrebbe far parlare di sé solo per le sue bellezze, ma come recita una vecchia Massima, non si può capire davvero una città senza prima utilizzare i suoi bagni pubblici. E qui, ahimè, caschiamo male, perché se anche accantonassimo per un attimo il discorso pulizia e degrado, ecco spuntare un caso di spreco idrico. Una cittadina ci segnala che nel bagno pubblico, ai piedi della scalinata di Prato Santa Caterina, lo sciacquone del WC continua a consumare acqua con un getto ininterrotto. Insomma, in un periodo di allerta siccità e di costi alle stelle, situazioni come questa sono davvero uno spreco doppio di acqua e di soldi.